La piazzaforte di Pescara, tre secoli di storia della Real Piazza, del capoluogo adriatico, l'ultimo libro di Licio di Biase, una storia lunga, tre secoli, una storia che molti non conoscono. È importante perché la piazzaforte di Pescara era una delle piazzaforti più importanti del Regno di Nobili I e Regno II Sicilia dopo, quindi aveva una sua valenza strategica perché era la struttura militare difensiva del nord del Regno di Napoli, con il confine era il Tronto, quindi diciamo che appena dopo il Tronto la prima struttura difensiva era la piazzaforte di Pescara, realizzata nella seconda metà del 1500, buttata giù definitivamente alla fine del 1800. Piangi il cuore pensare di non avere più questa struttura, di non avere più quasi le tracce di questa struttura, per cui in assenza delle tracce ho voluto scrivere questo libro molto importante. Eravamo e siamo consapevoli che l'area di Rampigna è un'area di grande importanza perché è un po' l'area sacrale delle varie fasi della storia della città, dal periodo romano imperiale, periodo medioevale e poi con la piazzaforte, lì c'era dall'inse del 1600, venne realizzata la chiesetta di Santa Maria del Carmine, che c'è ancora e che è un elemento molto importante che testimonia come quell'area sia un'area sacrale. I rinvenimenti attualmente venuti alla luce proprio con gli scavi a Rampigna testimoniano le varie fasi della storia. È chiaro che più andremo in fondo nel fare i rilievi e più ci avvicineremo al periodo romano. C'è questo continuo ritorno al fatto che Pescara sia una città giovane e moderna perché non abbiamo più gli elementi visivi del nostro passato. Se avessimo conservato la piazzaforte sicuramente nessuno avrebbe mai pensato che Pescara fosse una realtà senza storia. Invece purtroppo non li conserviamo, non conserviamo più questi simboli, questi elementi, questi segni del passato, per cui continuiamo a dire che Pescara è una storia.